Benvenuti nel sito CNH Industrial di Modena San Matteo, il cuore dello sviluppo prodotto dei trattori specializzati New Holland. E' qui che è nata la nuova generazione dei trattori specializzati, in particolare il T4FNV, uno dei prodotti New Holland più sfidanti e innovativi degli ultimi anni. Sono Giorgio Longo, responsabile piattaforma ed ingegneria per i trattori specializzati CNH Industrial. Con la serie FNV abbiamo rinnovato e rigenerato completamente la gamma dei trattori specializzati New Holland. La grande sfida è stata quella di realizzare una grande molteplicità di allestimenti e allo stesso tempo mantenendo dimensioni molto compatte, così come ci chiedevano i nostri clienti. All'interno del sito di Modena San Matteo si trova l'intera piattaforma di sviluppo dei trattori speciali. Specializzati ingegneri partono delle indicazioni del marketing per impostare i concetti del nuovo veicolo, con l'obiettivo di soddisfare le richieste dei clienti. Lavorando in simultaneous engineering, ingegneria e lo stabilimento collaborano sin dalle prime fasi per industrializzare i nuovi modelli secondo le esigenze produttive e per garantire gli attesi livelli qualitativi. Una parte importante del sito di San Matteo è rappresentata dalla struttura completa di validazione dei prodotti, che vengono sottoposti a simulazioni sia virtuali che fisiche con laboratori, celli climatiche e banchi di test e poi su piste ed anche in campo. Una volta superati i calcoli strutturali si parte con le simulazioni per testare il comfort di guida e i livelli acustici del mezzo. Tutta la parte ergonomica viene progettata e verificata proprio in sala virtuale, simulando le operazioni di lavoro con nuovi strumenti tecnologici, guanti e visori per la realtà virtuale. Alle simulazioni seguono i test fisici all'interno delle sale prove, dove si esaminano motore e trasmissione, poi all'interno delle celle climatiche, per arrivare finalmente ai test dinamici di frenatura e comfort complessivo. Particolare attenzione viene data la validazione in campo dei nuovi trattori. Questi test si effettuano presso clienti reali, accumulando più di 4000 ore di prove. Uno speciale strumento a bordo dei trattori acquisisce costantemente dati relativi al funzionamento di motore e trasmissione, che vengono poi validati, analizzando performance ed efficienza, con l'obiettivo di avere sempre prodotti sostenibili. Durante la fase di lancio, in stabilimento, i primi trattori prodotti tornano al sito di San Matteo, dove si verificano gli ultimi step del prodotto e del processo per accertare il livello qualitativo e confermare l'avvio di produzione. In un anno e mezzo abbiamo lanciato oltre 15 prodotti completamente nuovi. Sembrava impossibile, ma grazie al lavoro di squadra siamo riusciti nell'impresa. Per questo, qui a Modena, diciamo che l'impossibile è la nostra specialità.